Ok, poi vai, ne? Vabbè Vai io, vai io Va Aspettun Vabbè Oh Vabbè Vabbè Si Si Vabbè sieht'cino ecco trovare un'altra cosa? ci sono molte ti mi piacciono? ti mi piacciono? mi piacciono? ti mi piacciono? ti mi piacciono? il piacciono? te ho sentito le po Questo è proprio per me caso, mi ha fatto unaичida. Sei l'ho per me chanee? Ci sono proprio. Ci sono i c'è di iniziare. No, mi ha fatto fatto. C'è! Mi ha fatto fatto solo a te. Non ho fatto fatto. C'è sì? Non ho fatto fatta. Non ho fatto. Non ho fatto fatto. Paphi non ho fatto fatto arrivare. Non ho fatto solo! Non ho fatto fatto. Non ho fatto fatto! no che sanno qui ci sono tutti a a a a a a a a a si, se ci sono l'espegno. Tu ci sono l'espegno già l'espegno. Si, se ci sono l'espegno. Ok. Si, tu l'espegno? Sì. Le lecci. Le lecci non è inutile. Non è uscito. Si, non è inutile. C'è un'espegno. ... ... ... ... ... ... ... chi ha me rorapora? se non l'euro? a di più di stoppia si rorammi? se non vedeva? se non vedeva? se non vedeva? se non vedeva? non vedevo? non vedeva, non vedevo, pieter. ci sono le mie zoni? non vedevo? non vedevo? non vedevo? non mi fanno a un luogo non mi fanno è che mi fanno chanotte che ci chiede chi è a un uomo non mi fanno non mi fanno non mi fanno non mi fanno non non è che riuscini ci sono le checked ecco giusto non lo sai non lo sai non lo sai di chiacchiare di chiacchiare non lo sai non lo sai Non ci sono le persone a venire electrons per favore sono le persone non ci sono Per cui anno non non c'è Schiarò non si and mehrere SFC c'è un po' è un po' è un po' a 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